I bicipiti sono il tuo distretto carente? Non crescono come vorresti? E cosa stai facendo in merito? Che fai? Aumenti il volume? Aumenti la frequenza? Sei sicuro che è una buona mossa? In questo video vedremo tutto quello che devi sapere per ottimizzare l'allenamento dei bicipiti secondo quello che i tecnici principali ci suggeriscono, ma anche secondo quello che la letteratura scientifica ha tirato fuori. E in uno specifico vedremo tre punti. In primis il volume di allenamento richiesto, in seconda battuta la frequenza di allenamento, quindi ogni quanto allenare questi bicipiti, e in terzo quali esercizi utilizzare. Fermo però, prima di saltare su questo video e capire come far esplodere i tuoi braccia, i tuoi bicipiti, ricordati di iscriverti al canale perché è veramente importante che tu ti iscrivasi per supportarci al meglio e farci capire che stiamo facendo un buon lavoro. Quindi per farci capire che ti piace, perché ormai si sa che ti piace, lo so che ti piace, ti piacerà, te lo prometto io, iscriviti sin da subito al canale e andiamo col video. Iniziamo con il volume di allenamento. Quante serie di allenamento sono necessarie per i bicipiti? Per rispondere a questa domanda, come prima cosa, cerchiamo di capire quello che i coach e i tecnici principali vanno a suggerire. Se vediamo la scuola inglese, visto che sto qua in Inghilterra, quindi capitanata, diciamo, come massimo esponente da Jordan Peters, vediamo che il volume di allenamento per i bicipiti è veramente molto molto basso, al punto che molto spesso JP per identificare il suo allenamento di bicipiti scrive Bicep Stuff. C'è un po' di cose così che fa prima dell'allenamento di gambe o dopo l'allenamento di gambe. Ma va detto che Jordan ha delle braccia che sono molto avanti rispetto ad altri distretti, quindi vale anche la pena dedicarci meno volume di allenamento. Però in generale la scuola inglese del progressive overload moderno della Push-Pull Legs prevede poco volume di allenamento per le braccia in generale e i bicipiti. Se andiamo a vedere invece John Meadows nel suo Mountain Dog Training, vediamo che il volume suggerito arriva a 12-16 serie allenanti settimanali per i bicipiti. Quindi non è un volume esattamente basso, però non è neanche stratosferico molto alto. Però John quantomeno inseriva una giornata di braccia specifica, cioè la JM Split, che normalmente prevede un giorno dedicato interamente alle braccia. Quindi un po' più di enfasi c'è in questo caso. Va detto che anche John aveva le braccia, i bicipiti in particolare, tendenzialmente avanti rispetto ad altri distretti, quindi anche per lui valeva la pena dedicarci meno lavoro. Altro tecnico, Mike Isretel, che ha dato suggerimenti in merito, suggerisce di arrivare fino anche a sopra le 30 serie di allenamento per i bicipiti, a dove sia logicamente richiesto, come anche John, divide in diverse sezioni. Difatti il Portogardio, quando andiamo poi a vedere tutte le altre indicazioni tecnici, come Rambod, Neil Yoda, Ben Pakulski, eccetera, 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 è che il volume dovrebbe essere suddiviso in base a quello che è lo scopo. Quindi andiamo a dividere per dare un recap generale in tre diversi livelli. Il primo livello riguarda quelle situazioni in cui i bicipiti sono dei distretti muscolari dominanti. Quindi in questo caso, logicamente, io non voglio andare a dedicare troppo volume. realmente non mi serve. Quindi possiamo identificare questo livello, questo primo livello, con 4-6 serie allenanti a settimana, a salire anche semplicemente alla fine del lavoro su altri distretti muscolari. Il secondo livello riguarda tutti quegli atleti che hanno i bicipiti che stanno bene, ma devono continuare a progredire in uniformità, quindi non è che stanno proprio super avanti. Ecco, in questo caso possiamo dedicarci 8 fino anche a 15 serie allenanti all'interno della nostra settimana. E infine, un terzo livello, tutti quei casi di atleti che hanno i bicipiti carenti, quindi magari c'è un petto dominante, un back dominante, bicipite carente e devo dedicarci più lavoro rispetto agli altri distretti per riuscire a portare un corpo più equilibrato sul palco. Ecco, in questo caso mi posso spingere sopra anche le 20 serie a settimana. E non c'è un limite massimo, nel senso che spingerò, fin tanto che il recupero me lo permette. Quindi più posso spingere, meglio è. Parlato del volume, andiamo adesso a vedere la frequenza di allenamento. Quindi questi bicipiti, quante volte devo allenarli all'interno della settimana? Ecco, in realtà la risposta si basa sulla risposta che abbiamo dato al volume. Perché questo? Come ho spiegato nel mio libro, che sta qua dietro, che vedete qua dietro, noi abbiamo una grande distinzione tra variabili di allenamento e parametri. Le variabili sono il volume, per l'appunto, l'intensità di carico, quindi il carico che noi mettiamo, l'intensità percepita, quindi l'effort e la densità. Mentre i parametri sono la frequenza, in questo caso, la split di allenamento, il tempo di istituzione, le tecniche di intensità. Perché c'è questa distinzione? Perché le variabili sono quelle variabili per l'appunto su cui noi progrediamo all'interno di un mesociclo. Cioè il mesociclo deve avere come obiettivo quello di progredire su una variabile. I parametri invece si adattano in funzione delle variabili, cioè vengono adattati e scelti soltanto dopo. E vengono scelti con quale logica? Con quella di rendere la progressione sulle variabili quanto migliore possibile, e quanto più ottimale possibile. Quindi capiamo bene che nel momento in cui io devo chiedermi ok, quante volte alleno i bicipiti? Beh, la domanda è quante serie devi fare per questi bicipiti? Quindi identificiamo una frequenza ideale secondo sempre i primi tre livelli che abbiamo visto per il volume. Quindi primo livello, soggetto con i bicipiti super avanti, la frequenza è quasi zero, nel senso che io i bicipiti li andrò ad inserire alla fine dell'allenamento di altri distretti muscolari, quindi sostanzialmente basta anche un piccolo richiamo una volta a settimana. Secondo livello, un soggetto che ha dei buoni bicipiti però li deve portare avanti insieme agli altri distretti, cioè non stanno super avanti, hanno detto 8-15 serie allenamento, ecco in questo caso una volta barra una e mezzo, che vuol dire una e mezzo? Una volta intera più un piccolo richiamo, quindi magari una sessione dove li alleno in maniera vera e propria per 8 serie allenanti, e poi alla fine della mia sessione di pack inserisco due serie, quindi un totale di 10 serie allenanti, una volta più un richiamo. Terzo livello, una persona che deve portarli avanti almeno dovrebbe allenarli due volte a settimana, ma se il volume inizia a salire, in questo caso dobbiamo allenarli anche di più, fino a 3-4 volte a settimana. Ho fatto un video su Instagram in cui iniziavo dicendo puoi allenare le braccia tutti i giorni? A tutti gli effetti una strategia, eh sì perché in acuto le allenerò tutti i giorni, vado ad aumentare tanto il mio volume, vado in overreaching e poi scarico, e quando scarico c'è una sovracompensazione, quindi le braccia ne hanno un beneficio. E tra l'altro seguimi su Instagram perché faccio contenuti diversi, quindi per non perderti niente assicurati di seguirmi, link in descrizione. Abbiamo parlato del volume, abbiamo parlato della frequenza, adesso arriviamo agli esercizi. Quali esercizi devo mettere? Ecco abbiamo diverse famiglie tra cui scegliere. In primis il Carl ad omero neutro, quindi omero lungo il fianco, possiamo utilizzare un chiavo, possiamo utilizzare una corda, diverse alternative anche manubri, però il mio omero rimane lungo il mio fianco. Seconda famiglia Carl ad omero flesso, quindi in questo caso il mio bicipite, che è biarticolare, mi parte da una posizione di pre-accorciamento. Carl ad omero esteso, quindi dietro il busto, in questo caso di nuovo il mio bicipite è biarticolare, e parte da una posizione di pre-allungamento. E infine le diverse varianti di Hammer Carl, dove ho una presa neutra che mi porta ad allenare il brachiale e il brachioradiale, che comunque inseriamo bene o male nel calderone, dell'allenamento per i bicipiti. Non sono distretti super importanti da un punto di vista proprio di resa estetica, ma in realtà quel che fanno è spingere un po' di più i muscoli superficiali in superficie e quindi creare un effetto molto più pieno del braccio nel suo complesso. Ora ci sono tantissimi studi molto interessanti che vanno ad analizzare le differenze dei diversi esercizi sull'attivazione delle zone dei bicipiti, quello che è più efficace e meno efficace. Però ovviamente questo meriterebbe un video a parte. Se ti interessa, scrivilo nei commenti e vediamo in base ai like che riceviamo. Mettiamo un numero di 5.000 like e facciamo uscire anche questo video sugli esercizi dei bicipiti, nello specifico tutte le diverse varianti e cosa possiamo fare in base al nostro scopo. Per esempio, c'è possibilità di lavorare più il capo corto rispetto al capo lungo? Andiamo a vederlo, perché nell'analisi e degli studi ci rispondono a questa domanda. Per ora, quello che ci interessa sapere è che tutte queste famiglie, quindi queste quattro famiglie che abbiamo identificato, sono utili per creare ipertrofia. Quindi all'interno del nostro micro ciclo di allenamento, le diverse varianti del caso, ecco, assicuriamoci di inserirle. Quindi per esempio, ti alleni due volte a settimana, una volta fai due esercizi delle prime due famiglie e una seconda volta fai due esercizi delle altre due famiglie. Insomma, nel nostro micro ciclo, nella nostra settimana di allenamento, dovrebbero essere compresi tutti quanti. Per quanto riguarda l'esercizio specifico, come detto, ci dedicheremo un video, ma regola generale molto semplice, scegli sempre esercizi con cui hai una buona intimità. Che cosa vuol dire? Esercizi con cui senti molto bene lavorare il bicipite, perché se non lo stai sentendo, non è un esercizio efficace. C'è qualcosa che non va o perché lo fai male o perché non è efficace l'esercizio. Quindi non soffermarti troppo sull'analisi, ma cerca di ascoltarti come prima cosa. Questo è tutto per l'allenamento dei bicipiti. Fammi sapere un attimo, fammi vedere i risultati. Misurateli adesso. Poi fammi sapere tra tre mesi, utilizzando questi principi, quanto hai guadagnato a livello di centimetri. E per il resto, qualsiasi domanda qua sotto, sarò bagnato di rispondere. E noi ci vediamo ragazzi al prossimo video.